Ciao a tutti ragazzi sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi faccio una cosa che sul canale non ho mai fatto, da quando ovviamente ho cambiato tema portando da un paio d'anni board game La mia prima collaborazione con Sara, Miss Meeple, che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere quando faceva la PR in Cranio Creations Una ragazza veramente squisita, una ragazza che porta sul canale questi contenuti da molto prima di me, quindi da qualche anno E abbiamo fatto questa collaborazione perché, come vedete qui davanti, è uscita la versione tradotta completamente in italiano della Giochi Uniti di Tainted Grail Qui davanti vedete la versione della Giochi Uniti, gioco base tradotto, e di qua l'espansione di Fall of Avalon con tutte le miniature Ma di questo ve ne parlerà Sara e ve lo ricorderò anch'io nel corso del video Io oggi vi voglio parlare unicamente del gioco uscito su Steam, che è veramente molto interessante Ve ne parlo a breve, dopo la sigla Come detto, oggi vi parlo di Tainted Grail, versione videogioco della Awakened Realms Digital Che potete tranquillamente acquistare su Steam al momento, ma solo al momento in accesso anticipato Non c'è tutta la campagna del gioco, non ci sono tutte le classi sbloccate Ma dalla prima volta che l'ho provata, che è uscito un paio di mesi fa, hanno già fatto uno sbotto di aggiornamenti Tipo già una decina, 15 aggiornamenti Ogni giorno lo vedo che si aggiornata solo su Steam, mi dico quanta roba esce Infatti lo stanno aggiornando piano piano e la campagna, per quanto non c'è tutta Secondo me una buona metà la troverete Il gioco, poi nel frattempo vi faccio vedere un pochino di ispezioni di gameplay che ho registrato È molto simile alla versione gioco da tavolo che vedete qui davanti Ed è molto interessante, secondo me ben fatto perché il motore grafico non è dei migliori O meglio, il motore grafico degli ambienti, cioè la grafica degli ambienti, la caratterizzazione di tutto quanto Quella è fatta veramente da paura, bello Cioè vi si catapulta in questa isola di Avalon, che poi è un po' la storia del gioco Che diciamo a fine guerra, tra virgolette, delle guerre arturiane Quindi la battaglia di Re Artù contro il figlio bastardo e il legittimo Mordred che voleva usurpagli il trono Ci sono state tutte queste guerre e il cavale della tavola rotonda Magari Parzifal che è andata alla ricerca del Santo Graal e tutti gli altri Lanci il lotto, lo sapete, con Ginevra che poi ci fu lo scandalo e lei fu mandata in un monastero Tutte quante le croniche arturiane, finita la guerra di Artù contro i Sassoni Che erano i nemici praticamente del suo regno al tempo Si è scatenata questa specie di nebbia magica nell'isola di Avalon Che sembra sia stata evocata da dei druidi Ci sono voci nel mezzo, non vi voglio spoilerare la storia perché ragazzi la storia è il 90% di questo gioco E anche del videogioco Però viene nominato molto spesso Merlino e vi ricordate l'isola di Avalon è famosa Perché non solo era l'isola dei druidi capitanata da Merlino dove c'era il suo castello Ma è anche l'isola dove è stato portato il cadavere in barca dalla dama del lago direttamente Il cadavere di Re Artù e la spada Excalibur restituita alle acque Perché nella leggenda folcloristica, cioè cristianizzata, europeizzata, mettiamola così La spada venne trovata nella roccia, come si racconta la spada nella roccia Ci ha anche fatto bellissimo il film di animazione della Disney Ma non era così Nelle reali storie la spada Re Artù non la trova dentro una roccia Non la tira fuori da una roccia ma la trova sott'acqua E gliela dà direttamente, gliela offre la dama del lago Nell'iconica scena che è la spada, se vi ricordate anche il film Excalibur La spada che esce dalle acque sorretta da una mano Appunto la mano della dama del lago Tra l'altro, piccola parentesi, questa cosa riportata molto bene dalla Games Workshop Nella prima edizione di Warhammer Fantasy nel vecchio mondo, Bretonnia Per farvi capire E senza divagare troppo il gioco è molto interessante perché riprende da vicino le meccaniche del gioco da tavolo Alla fin fine è un deck building Alla fin fine è un gioco con una storia, con diverse classi, diversi personaggi Ovviamente all'inizio vi farà scegliere quando credete il personaggio Se farlo maschio, se farlo femmina Non c'è tantissima scelta però diciamo taglio di capelli Tatuaggi Ricorda un po' anche l'ultima Assassin's Creed Valhalla Vi fa scegliere un po' come personalizzarlo E vi fa fare un tutorial molto interessante in cui voi siete arrivati su quest'isola Dopo che la vostra nave è andata praticamente a schiantarsi contro gli scogli E siete arrivati approdati sull'isola di Avalon Però non solo non riconoscete il posto E nemmeno chi vi si avvicina Senza spoiler Però tra 3 miliardi di colpi di scena venite a capire Che voi siete uno spirito che vaga e può reincarnarsi in un corpo Perché siete qualcosa un po' come Dark Souls Sembrate essere una persona difunta O qualcosa che ci si avvicina E in questa storia insieme a voi sono richiamate diverse figure Anche qui senza fare nomi Del ciclo Arturiani Quindi anche personaggi che si sono visti nelle storie Ma soprattutto anche cavalieri della tavola rotonda De Funti Che praticamente dopo la guerra di Artù Con i Sassoni e con Mordred Non morirono quasi tutti ma quasi Se ne salvarono veramente pochi Si dice che forse Gawain Galgano O Galvano Che è quello dell'abbazia famosa che si trova in Italia Dove c'è la spada conficcata nella roccia Sia uno dei pochi cavalieri appunto Salvato sia appunto venuto via Dalla Britannia del tempo dopo le guerre Del ciclo Arturiano Ma questa qui comunque sono cose di storia Perché altro miti e leggende che potete trovare tranquillamente Anche su libri Ma che in parte Vengono anche narrate da questo gioco E il gioco è molto interessante perché fondamentalmente è un GDR Abbastanza open world Abbastanza Però più che open world è sub binario Con ramificazioni per queste principali secondarie E voi dovete La storia principale è che dovete tenere in vita Questi menhir Sull'isola di Avalon Che sono quelle statuine Che vi ho fatto vedere durante La recensione e l'unboxing Di Tainted Grail Versione inglese Vi ricordo che quello qui davanti Invece è la versione italiana Che potete direttamente acquistare Dal sito della Giochi Uniti Che vi lascio in descrizione Il vostro scopo principale È di tenerli in vita Tramite offerte La luce che è dentro questi menhir Non si deve mai spendere Perché c'è questa wilderness Cioè questa nebbia assassina Che sta avvolgendo tutto quanto il reame Ricorda un po' come vi ho detto Nella vecchia recensione Il nulla Il nulla della storia infinita Fondamentalmente Che è quello che andava a divorare E distruggere Annullare Una specie di buco nero Che risucchia tutto al suo interno Il reame di Avalon E poi anche tutto il resto Della Britannia E voi dovete tenere accesi Questi dolmen Queste figure alte Queste statue Che sono state Si dice create da Merlino Comunque da un gruppo di druidi Da un circolo stretto di druidi Per tenere lontane Queste nebbie assassine E quindi da qui si ripanna Tutta quanta la vostra storia Che vi porterà a diventare Un personaggio famoso O magari a perire Nell'intento E la cosa bella Ve l'ho detto Non è proprio un vero e proprio Open world È più un gioco Sub binario Con queste secondarie E un po' di esplorazione Che vi portano a esplorare il mondo Magari andate a esplorare Un dungeon Che non vi ci manda Nessuna quest in particolare O andate a rovistare In un vecchio O non lo so Monastare abbandonato O anche semplicemente In delle antiche tombe Per trovare oggetti C'è la gestione C'è la gestione dell'inventario Quando si passa di livello C'è la gestione Di punti esperienza Si sbloccano carte Carte che vengono unite Al vostro mazzo Perché poi È un gioco senza dadi Anche la versione Gioco da tavolo Non c'è un tiro di dadi Voi avete il vostro set Di carte Che dovete concatenare Per bene Nel gioco da tavolo E metterle insieme Per poi andare a fare Tot punti feriti Anfondo al tunnel E sconfiggere la creatura Nel gioco per computer Non potevano fare Una cosa leggendere Dove devi andare a unire Le carte A seconda delle entrate E delle uscite Dei loro punti di interesse Ma l'hanno fatto Un pochino più Un chiave videoludica Voi avete il mazzo di carte Ricorda un po' Se vogliamo Che è una specie di magic E quando giochi la carta La carta ha un effetto immediato Ovviamente Oppure un buff Nei tuoi confronti O un debuff Nei confronti Nel nemico Che sta andando ad affrontare Ed è un gioco Non cooperativo Non online Non c'è una storia Il gioco normale Sì Quello per computer Per ora Ma io penso anche più avanti Lo potete giocare da soli Per quanto mi piacerebbe Vedere una componente Magari cooperativa Da fare con qualcuno Perché secondo me Il più bello Sto gioco lo dà In più di una persona Ed è molto 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 interessante Ragazzi E ve lo consiglio Candamente Per quanto al momento Sia in accesso Anticipato Però vi assicuro Non ve lo consiglierevo Lo dico sinceramente È veramente Un bel gioco Per tutti quelli Che hanno provato Il gioco da tavolo Ma anche se non l'avete provato È un bel gioco Divertentissimo C'ha una storia della madonna Al momento È soltanto in inglese Ma visto che l'hanno tradotto In italiano Forse lo tradurranno Anche in italiano Nel gioco Forse faranno Una traduzione Amatoriale Chi lo sa Al momento Se lo comprate Solo 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 In inglese Figata delle figate È tutto doppiato Quindi chi mastica Bene l'inglese O magari attivate Perché il sottotitolo È tutto doppiato Non c'è una linea Di dialogo Narrazione del dungeon master Il vostro personaggio Gli NPC Non c'è una linea Di dialogo Che non sia Doppiata Quindi è veramente Una figata assurda Vi lascio il link In descrizione Ovviamente per acquistarlo Da steam Se volete acquistare Invece questa versione qui Scatolata Direttamente da Get Your Fund Che è Board Game Discount Ha cambiato nome E come vedete In sovraimpressione Il primo link In descrizione Se non lo trovate A parte ce l'hanno Ma se non lo trovate Nello shop Mandateli un messaggio Privato Dicendoli che arrivate Dal mio canale Dal canale di Coridan Per avere Il miglior prezzo Sul mercato E qui apro una parentesi Visto che ci sono state Un po' di incomprensioni Contattandoli privatamente Non vuol dire Che vi fanno lo sconto Non ci sono sconti Anche perché i giochi Sono già scontati Quindi non andate Dicendo Vengo dal canale di Coridan Aspettandovi lo sconto No Ve lo trovano Anche se non è lista Magari ve lo trovano Al miglior prezzo Sul mercato Già scontato Quindi non vi faranno Ulteriori sconti In più Non lo volete pagare subito Ma lo potete pagare In tre rate A interessi zero Senza alcun tipo Di finanziamento Quindi E le spese di spedizione Mai più Quindi Meglio del meglio Potete trovare Direttamente da Get Your Fun Primo link In descrizione Quindi Videogioco Passate appena i voti Gioco da tavolo Ragazzi Secondo me Una delle uscite Più belle di questo 2020 Ringrazio E saluto Sara Ciao Sara Grazie per avermi dato Questa possibilità E andate a vedere Come ricordo Ancora una volta A parte l'avete già visto Nel corso del video Ve l'ho già spiegato Inizialmente il video Della mia amica Sara Miss Maple Che ci fa vedere Invece la parte Appunto Che vedete qui davanti Lei ce la fa vedere Spiegata E tutto quanto Con le sue impressioni Personali Ciao ragazzi Alla prossima Ciao Andrea E grazie per questo spazio Ti racconto in breve Cosa ne penso Del gioco da tavolo Tainted Grail E' un gioco Decisamente impegnativo Non tanto per la comprensione Del regolamento Quanto per l'investimento Di tempo Ed edizione Che richiede Bisogna avere Il gruppo giusto Per affrontare La campagna Partita dopo partita Ma una volta entrati Nelle atmosfere Di Tainted Grail Sarà veramente Difficile uscirne E' un gioco Fortemente immersivo Narrativo Che ha passione E coinvolge Per la storia Gli sviluppi E per le miniature Pazzesche 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 Pazzesche